Rimini si candida a capitale italiana della cultura per il 2026, una decisione coraggiosa, forte e innovativa come tradizione di questa città. Un luogo animato da sempre da forze vitali speciali che hanno reso grande Rimini in ogni epoca, nell'antichità, nel Medioevo e nel Trecento in particolare, nel Rinascimento, fino all'età moderna e contemporanea, dove Rimini è diventata un punto di riferimento turistico ma anche la musa ispiratrice di grandi artisti e letterati come Federico Fillini, Luigi Ghirri e Pier Vittorio Tondelli. Per raggiungere questo scopo cerchiamo tre talenti nel settore dell'heritage, dello spettacolo e della scienza che lavorino con noi per costruire questa candidatura nel dettaglio, suggerendoci idee innovative e trasferendoci la loro visione di città e di cultura per elaborare assieme un progetto che trasformi la memoria in futuro e il futuro in opportunità. Vi aspettiamo.